vai 30 destra per sinistra 3 più per destra 3 meno chiude 30 destra 4 lunga lunga 100 attenzione attenzione casa sinistra 4 meno per subito sinistra 3 in destra 2 sale 50 attenzione sinistra 3 meno per destra 4 per subito sinistra 3 meno meno in destra 2 per sinistra 2 chiude la sinistra 2 chiude 50 sinistra 3 meno lunga 30 destra 3 meno chiude 30 destra 4 sale 50 destra 4 più 50 attenzione attenzione sinistra 3 meno meno gira per destra 3 2 tempi in subito sinistra 2 lunga chiude subito 2 lunga chiude 30 attenzione attenzione destra 3 meno non tagliare 50 destra 4 diventa 3 alla casa 50 sinistra 3 più 30 sinistra 2 per subito destra 2 ripeto per subito destra 2 per sinistra 100 attenzione attenzione destra 2 gira a marcia sinistra 2 sinistra 4 lunga diventa 3 chiude per destra 4 per destra 4 in sinistra 5 lunga attenzione destra 3 meno per subito sinistra 3 meno meno chiude 3 meno per subito 3 meno meno chiude 30 30 destra 2 gira 50 sinistra 3 più per sinistra 4 lunga per destra 5 50 5 50 attenzione attenzione sinistra 1 gira con bocaccia la mano per destra 50 sinistra 5 per destra 4 diventa 3 diventa 3 lunga 100 falla piena no attenzione attenzione sinistra 3 meno meno chiude per destra 4 per sinistra 4 lunga per attenzione destra 3 per sinistra 3 destra 3 per sinistra 3 30 attenzione attenzione destra 3 lunga 2 tempi diventa 2 sale sinistra 3 lunga per sinistra 4 per destra 3 per sinistra 3 chiude per destra 4 su fine vai 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 la marcia 27 24 e 27 24 e 27 per destra 4 20 21 21 22 26